Musica Ben trovati alle TG Med Sport, i due posticipi Cesena-Novara 2-0 e Crotone-Ternana 1-1 chiudono questa giornata in Serie B la 32esima. Tutti i risultati con la vittoria dell'Avellino 1-0 sul Cittadella, Cesena-Novara 2-0, Empoli-Juve Stabia 2-1, Latina-Carpi 1-0, Modena-Spezia 0-0, Padova-Virtus-Lanciano 5-1, Pescara-Regina 2-2, Siena-Brescia 2-1 e poi Trapani-Bari 3-4 e Varese-Palermo 1-2. Alla luce di questi risultati la griglia completa con la classifica del Palermo che sorride sempre di più, 10 punti di vantaggio sul secondo posto dell'Empoli, Palermo 63, Empoli 53 e poi Cesena-Crotone a 50 punti, dunque 13 punti di vantaggio sul terzo posto. Siena 49 insieme alle Trapani, Avellino, Latina-Virtus-Lanciano 48, Pescara 45, Spezia 44, Modena 42, Ternana 41, 40 per Bari, Brescia, Varese e Carpi, Novara 35, Padova 30, Cittadella 29, Regina 27 e Juve Stabia 16. Un Palermo dunque che in vista dell'anticipo di venerdì sera alle 20.30 al Barbera contro l'Avellino ritrova ancora una volta i golli decisivi del Gallo-Belotti ma soprattutto la convinzione che ormai questa promozione in Serie A è davvero alle porte. Continuando così, mantenendo questo distacco dal terzo posto in classifica, la squadra di Iachini potrebbe trovarsi già a festeggiare la promozione con 5 giornate d'anticipo. La gioia proprio nelle parole del tecnico del Palermo e dei protagonisti della gara. Il Varese è un'ottima squadra, ben guidata, ha dei giocatori di qualità. Se una squadra ferma il Trapani che è la terza in classifica e batte l'Empoli non c'è verso che non sia una squadra forte, è ben organizzata. Quindi doveva venire qui con la mentalità giusta, una terza partita in una settimana con piglio giusto e personalità. La squadra giocata nei primi minuti ha avuto 4-5 situazioni importanti anche per passare in vantaggio e poi purtroppo sulla prima palla inattiva al calcio d'angolo abbiamo perso una marcatura e c'è stato il vantaggio del Varese. Nonostante questo abbiamo continuato a giocare, abbiamo insistito, abbiamo aggredito, abbiamo giocato a calcio e ricercato il pareggio. Ci siamo andati vicino una volta, due, poi è arrivato il gol del Pari e il secondo tempo abbiamo ripreso a giocare cercando di vincere la partita. Nonostante sapevamo che il Varese era molto bravo negli spazi, nelle profondità, nei tagli e quindi dovevamo essere sempre svegli, pronti. Abbiamo rischiato qualcosina su un'altra palla inattiva nel secondo tempo quando ha colpito Rea e è stato bravo Stefano a parare. Però nello stesso tempo anche noi siamo stati sempre pronti a verticalizzare, attaccare gli spazi, le profondità e non a caso poi alla lunga sappiamo che se corriamo in avanti e giochiamo in verticale in avanti mettiamo in difficoltà le linee difensive avversarie, mandiamo in affanno, facciamo stancare i difensori avversari perché non a caso poi le ammunizioni finali e le spuzioni sono derivate anche da un po' di stanchezza perché quando tu attacchi sempre le profondità e sempre gli spazi è chiaro che poi anche i difensori avversari possono durare fatica anche come concentrazione, come affanno proprio nelle situazioni di uno contro uno possono poi andarci a prendere qualcosa. Quindi la squadra ha tenuto bene il campo, è rimasta sempre alta senza abbassarsi più di tanto, quello che dovevamo fare. Io voglio che le mie squadre siano sempre organizzate, affamate, vogliose, abbiano mentalità giusta, giochino sempre in avanti, sempre con mentalità propositiva, che corrono in verticale, che giochino in verticale e che vadano a ricercare sempre con mentalità giusta la vittoria sia in casa che fuori casa. Poi alla lunga questi sono valori che se sai poi quello che devi fare quando scendi in campo nella fase di possesso e di non possesso e questo spirito sicuramente alla lunga qualcosa porti a casa di importante e noi dobbiamo arrivare ancora a portare a casa e a mettere la bandierina sulla cima della vetta della montagna perché abbiamo ancora un pezzo di montagna importante da scalare. Io do il mio contributo con i miei compagni di squadra tutte le partite, a volte riesci di più, a volte riesci di meno. Oggi era importante fare risultato, ho contribuito con alcune parate importanti, di questo siamo contenti. Finché la matematica non ci dice che il Palermo ritorna lì dove è giusto che sta, dobbiamo continuare a pedalare, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo dobbiamo continuare nel giocare con questa mentalità, con questa voglia. C'è un grande gruppo, un bello spirito e noi ci divertiamo. Poi sicuramente le vittorie aiutano, però siamo sulla buona strada per toglierci delle belle soddisfazioni. Sapevamo che oggi la partita non era facile, infatti si è messa subito in salita, il Varese ha riuscito a trovare subito il gol però siamo stati bravi a reagire, a pareggiarla e poi con grande cuore e carattere siamo riusciti a prendere questa vittoria che era importante. Mi dispiace per il Varese perché comunque io ho giocato qua, però adesso è importante la cavalcata del Palermo e questi tre punti sono fondamentali per la nostra rincorsa Serie A. Soprattutto nel tragitto a venire qui al Franco Ossola e poi quando sono entrato nel riscaldamento è stata bella l'accoglienza del pubblico e anche il saluto finale, li ringrazierò sempre, è un ricordo che mi rimarrà nel cuore ma oggi sono un giocatore del Palermo e sono contento per questa vittoria. Fa piacere, comunque il ministro lo dice sempre, bisogna arrivare sul fondo e mettere una palla importante oggi sono stato bravo a metterla, però è tutta un'azione corale, è partita da dietro e poi sono stati bravi anche davanti a farsi trovare pronti. Il Trapani invece fa a Rakiri in casa contro il Bari arrivano anche le prime stoccate da parte del tecnico Roberto Boscaia con un Trapani che evidentemente in vantaggio di due golle non ha saputo gestire la pressione. Questo è un appello che faccio ai veri tifosi del Trapani che sono tantissimi ci seguono sempre, vicino e tutto. La partita noi ne abbiamo vinta a stessa, abbiamo dimostrato che squadra siamo. Purtroppo è capitata questa sconfitta sonora però quando io gli dico di stare coi piedi per terra lo dico pure al 2-0 perché fino al 90-95 non finiscono le partite. Il campionato fino alla fine non finisce. Invece qua ogni volta a Serie A dobbiamo stare tranquilli perché noi abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo risultati con la serenità. Gli errori ci sono stati oggi e tutto. Noi stiamo lì e fin quando stiamo lì godiamo e io voglio godere fino alla fine. Ogni partita la voglio vincere. Ve lo dico adesso. O stadio per l'anno prossimo o senza stadio. Intanto pensiamo a fare bene. Abbiamo preso 4 gol in pochi minuti con poco senso come se si fosse spenta la luce ma ci sta perché avevamo contro una squadra di ragazzi molto interessanti che hanno giocato anche un buon calcio attaccavano continuamente tutti gli spazi e dopo che da perdere noi non siamo stati bravi ad arginare quantomeno i primi minuti della loro reazione. Poi secondo tempo avete visto un po' tutti abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo concesso poco abbiamo fatto gol potevamo pareggiare è andata così tendiamo questa sconfitta farà parte del nostro percorso di crescita e guardiamo a Carpi e cerchiamo di andare a fare risultato a Carpi dovevamo guantare il risultato perché dopo che vai sul 2-0 è stata anche una botta verso il 2-1 e poi subito il 2-2 è stata una doccia fredda però la nostra squadra deve sempre creare e cercare di portare a casa un risultato che era quello della vittoria però non sempre a volte va bene peccato facciamo tesoro e poi andiamo avanti pensiamo a Carpi In Lega Pro seconda divisione fa un passo decisivo verso la promozione il Messina di Grassadonia è stato tra l'altro espulso insieme a Majorano ma arriva la vittoria per 2-1 sulla Casertana con i gol realizzati addirittura dopo 14 secondi da Ferreira e poi da Corona all'ottavo del primo tempo mentre invece Mancino su calcio di rigore accorcia le distanze per la Casertana ma è un Messina che continua a guadagnare punti e consolida dunque la sua posizione per la promozione diretta vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi arrivederci Piva l'edilizia che ti vizia Piva è cartongesso sistema tintometrico sistema cappotto intonaci guaina ferramenta idraulica rivestimenti dal cemento alla pittura a vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti aperti anche a pranzo Piva l'edilizia che ti vizia a Palermo via Galileo Galilei 106 Rotonda Viale Lazio infoline 091 784 6193 presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it